Non so se avete domande Non so se avete domande Noi oggi vogliamo innanzitutto lanciare un segnale forte a questo governo Un governo che ha gestito in maniera fallimentare, in maniera criminale questa emergenza sanitaria Gli italiani sono agli arresti domiciliari ormai da 14 mesi Non se ne può più, noi non siamo né complottisti, non siamo negazionisti, non siamo no vax Semplicemente siamo contrari ad alcune cose Siamo contrari ad esempio al pass vaccinale Siamo contrari a delle chiusure, al coprifuoco che non servono a niente Perché sono cose che non servono a niente Noi non diciamo che il virus non esiste Non metteteci in bocca parole che non abbiamo detto Noi diciamo semplicemente che la gestione di questa emergenza Perché un'emergenza se c'è, è stata portata avanti in maniera totalmente sbagliata Lei è vaccinato? Io ancora non sono vaccinato perché non rientro nell'età ancora per farmi il vaccino Perché non porto la mascherina? Perché oggi è una giornata di libertà Perché oggi ci sono tante persone che hanno la mascherina Quindi se voi oggi volete parlare di assembramento a questa manifestazione Eh no, state parlando di questo Io non la porto perché oggi è una giornata di libertà Ce l'ho in tasca e dopo la metto Siamo a due metri quindi siamo all'aria aperta Oggi non succede niente Ciao Marzano Siamo a due metri quindi Siamo a due metri quindi